nella sezione live di tiktok ogni volta che scorre ma 5 su 5 sono napoletani che fanno dropshipping ah nel live? si che stanno lì e stanno nella loro stanza con l'armadio a vista e wish to capo con la targhetta taglia L nei commenti prenotano lo comprano ah vendono su tiktok 5 su 5 5 live su 5 sono gente che fa sta roba qua quindi le piace o che vende tipo sempre napoletano sono sempre solo napoletani che vendono armi da difesa personale ah quello potrebbe interessarmi spray peperoncino tutti rosa quello è già più figo eh però è un mercato strano e la gente lo compra quindi ma poi come fai a comprare una roba su tiktok e sperare che quello te la mandi davvero? eh lo fa lo fa e ci stanno anche i mercati i mercanti i mercanti la figura da rpg col borsone e la mucca con i borsoni a fianco e che si incazzano contro sta roba qua che sono obbligati anche loro a fare tiktok perché c'è competizione ora a Napoli ah cazzo i mercanti quel tipo real eh sì quelli che c'hanno il negozio merda il negozio di coltelli e ti riduce a fare tiktok però penso che penso che se tu sei un negoziante arriva davvero cioè che cazzo ne so Pierino che inizia a vendere più di te perché fa il dropshipping ma poi la truffa su tiktok minchia non è truffa vabbè però è un po' quella roba da fuffaguru fai dropshipping diventi milionario non è più il vuoi tu vuoi l'iphone in stazione che cos'era le meridiane di Hercules filotte era napoletano era napoletano bro comunque tutta questa wave di tiktok di questi youtuber contro streamer così mi è venuta una voglia di fare lo youtuber bro cioè troppo spiegami sta cosa perché ho pensato allora quando eravamo un pochettino più piccoli li guardavamo molto peggio di youtuber no cioè era tipo perché erano molto peggio forse dici io credo che ad oggi non ci sia più lo youtuber tipo tutti ragazzi benvenuti sul mio canale oggi giochiamo a happy wheels non hai mai visto un video di stepney nel 2023 stepney no mi sa che non ho mai visto un video step sì magari non ruona così tanto non c'è più sai è tipo l'intro dubstep bui 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 con il nicchia stepney sì quella roba lì forse non c'è più però comunque cioè tipo io ieri stavo guardando non so neanche io perché onestamente ciccio gamer fa ancora video di clash royale e fortnite i video si chiamano ancora tipo droppiamo a pinnacoli pendenti tra parentesi 27 kill zio basta minchia e quindi cioè secondo me gli youtuber pacco esistono ancora però un tempo c'era proprio era quello standard per un tempo come si chiamava quella di qui parte la ship eh non te la ricordi la canzone qui parte la ship no quella di alberico c'era allora c'era alberico poi c'era un altro che era tipo alberico però uguale porca puttana troppo famoso ora non mi viene in mente e lui ho capito chi è e lui faceva i prank a questa qua che faceva aveva fatto per la canzone ah k palicious bro ok k palicious che faccia i video con anthony di francesco anthony di francesco anthony di francesco adesso ho un mental coach davvero si mi ha scritto un anno e mezzo fa mi ha scritto mi ha detto facciamo dei live insieme adesso sono un mental coach voglio entrare in una psicologia parliamo di cose fighe io non gli ho risposto l'hai gustato un po' l'hai gustato allena ti ha ad essere gustato io mi ricordo quando facevano tipo le robe su wattpad che erano le fanfiction le fanfiction minchia quelle su tipo sì anche su surri e io mi abbiamo fatto un video con lilli meraviglia me lo ricordo certo è vero minchia facciamo la presa per il culo a questi video qua ma è vero che tu sei stato un po' uno youtuber per un periodo io sono stato uno youtuber io avevo un canale youtube come si chiamava? simo ah è vero che era il periodo facebook star e ti dirò andavo anche discretamente bene avevo tre video sul canale tutti e tre centomila views che per l'epoca spaccava il primo video che ho caricato era incredibile si chiamava trollare i pervertiti ok e praticamente ero su amico la chat randomica e vestito da donna con la parrucca il reggiseno truccato e mi vedevo solo così la parrucca me la ricordo mi vedevo solo così e entrava la gente si segava e io gli dicevo fai questo lecca la cam adesso mettiti un piede in bocca tutte queste robe qua e poi alla fine le avevo la parrucca ero pelato e niente ero pelato loro si pigliavano male e il video on top qualcuno ha mai continuato? cioè tipo quando si è rivelato è andato più forte alcuni reagivano tipo ah grande me l'hai fatta alcuni invece proprio kick skip e basta insta skip e pensa capito tu ma poi io mettevo le facce è illegale come cosa sì forse ora sì io mettevo proprio le facce non me ne fregava niente vabbè ma un tempo mica c'erano le regole minchia di figli tu sparavi in giro tu erai far west dai cioè era meglio infatti per quella roba lì però capito c'erano un sacco di questi youtuber mega pacco quelli che poi adesso cioè è un po' tipo l'esperienza di quelli youtuber negli anni allenamento e convogliare le cose capito gli errori fatti tipo dire ok questa roba non la facciamo più questa roba non la facciamo più teniamo solo il meglio sono diventati me contro te tipo secondo me che sono l'ultimate forma di quel tipo di youtube comunque il giro e sono diventati fighi sì capito adesso ci possono anche stare dentro lui e sofì i due king e queen di youtube sai quanto dura ancora lui e sofì il brand dovrà smettere una certa non possono fare ciao a tutti ragazzi e ma cioè io penso che loro secondo me non stanno neanche più insieme cioè quelle robe lì però continuano il brand funziona ancora continuare per forza minchia quando fai fanno i film proprio con la disney esatto cioè quelli probabilmente si odiano di brutto capito però continuano comunque a fare i video e sta roba qua comunque insomma tu vuoi fare lo youtuber io vuoi fare lo youtuber perché nel tempo si è rivalutato youtuber e ultimamente seguo da tipo un anno un toddy youtuber italiani americani quello che è che spaccano cioè i contenuti sono fighi capito dimmi tre video che ti piacciono video o youtuber video video tipo di video allora video vabbè a me piacciono un botto in generale i travel vlog tipo proprio video in vacanza nelle città esploro vado di qua provo questo tipo anima che esempio è quello fa ma non è vero scherzi all'acquabark all'acquabark in Thailandia vabbè io ho visto due tre video interessanti d'anima in Thailandia ok non li guardo più a Bangkok cioè per dirti io uno come Surry che ne parliamo cioè che ci sta benedicendo la puntata oggi non mi guardo i video random di Surry ma quando è in viaggio quando va all'estero tipo provo capito faccio questa cosa in Italia skip faccio questa cosa in Giappone wow e me la guardo brutta capito quindi mi piace quella roba lì mi piace anche i video quelli in cui parlano però mentre parlano cioè non c'è il tipo che parla ma sono tutti animati no ok non so tipo tipo quelli che ti spiegano la scienza con le animazioni tipo quella roba lì animati mini documentari quelle cose lì mi piacciono un botto però non le farei mai perché è un casino della madonna e poi mi piacciono non lo so in realtà sì sono tipo i vlog principalmente che mi guardo perché vabbè non mi guardo più quelli che che giocano eccetera però vlog cazzo quando sono fatti bene che è raro in realtà sono fighissimi secondo me minchia cioè vedi i go at youtubers tipo un case in eistat cazzo fa dei vlog che sono bellissimi tutti poi lo provano a copiare pochi cioè vengono un po' delle copie scorreggione ma cazzo mi piacerebbe provare a fare quella roba lì no non a Milano in camera io anche ho un po' il desiderio di fare youtube solo che poi mi memorizzo subito perché perché non sbatti vero sì è vero cioè non è una cazzata usci fa il video pensare alle inquadrature avere già in mente il video finale non è non è semplice devi entracce un po' dentro io sono molto fan tipo del progetto happiness eh sì lui è grande che fa vlog fa travel sì non lo so cosa fa secondo me lui ha una sorta di travel vlogging un po' forse giornalistico quasi no eh esatto cioè fa comunque lui si fa vedere realtà è un travel però fa vedere una cosa specifica e lo fa fatto bene ha una qualità assurda e va sempre in posti incredibili quello quello spacca la serie in North Korea te la ricordi? sì mica una certa muore un tipo a metà ti ricordi per strada certo è un po' cringe secondo me sta roba del cos'è per te la felicità onestamente no invece è un claim giusto per i video cioè sai che in quel video ci sarà quella cosa funzionare funziona sì è il format da portare avanti così almeno anche tu c'è il mindset su vado a fare questo lì sì però è un po' no ci sta ci sta gli altri rispondono tutti uguali ma per me è la famiglia sì per me è essere felice cioè non è per forza nessuno che dice scopare i bianchi etero caucastici regnano è vero e il progetto happiness cazzo è già capito se lui non viaggiasse non sarebbe figa sta roba è che le sono molto look maxati dal posto in cui stanno capito se lo facessero tipo eh che cazzo fai in Italia il cibo per forza è l'unica cosa che puoi fare in Italia e se no cioè nel senso è quella roba da italiano tipo ci sono tanti posti belli in Italia però non me ne frega una sega di vederli da spettatore se vai minchia alle Maldive o che cazzo ne so lui forse aveva fatto un video tipo nell'isola che c'è sta isola che tra non so otto anni si calcola che per la roba delle maree sparirà l'isola e lui fa un video così dici cazzo ma come faccio a non cliccare questo cazzo di video cioè dai è una figata voglio vederla quest'isola per l'ultima volta sì poi il rischio di fare quei video lì e qua devo fare questo call out è diventare come Malloru che a me non piace per niente perché cioè lì capito c'è quella linea sottile tra progetto happiness e Malloru che è fare la roba un po' filosofica e non diventare invece tre metri sopra il cielo tipo io lo rispetto secondo me omo si è comprato una barca due barche tipo ha preso una barca sì ho visto però lui ha sempre fatto video con l'iPhone editati sull'iPhone davvero tutti tutti ma come editati sull'iPhone è un pazzo quei vlog lì sì sì allora un po' di rispetto certo che merita rispetto però lui bro fa quella roba lì non so che finisce i video tipo sì non ci sta che mettiamo e allora come ho scoperto alla fine di questo viaggio che l'importanza l'importanza non era nella destinazione ma negli amici che hai fatto lungo la strada e finisce il video non farmi il mezzo sangue di vlog non so cioè poi ci sono tipo non so Klaus che che ci sta ma è un po' goofy ma fa ancora video? sì 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 io non seguo più quella parte là cioè tipo uno al mese io i suoi ogni tanto me li guardo ho fatto un paio di mesi fa il video era un vlog dove scala il Monte Bianco quello fighissimo ma abbiamo già parlato del glow up di Manny Fresh no sì Manny Fresh fa travel vlog come è vero Carcats sì è vero collection cam che cammina in Thailandia si fa le pasticciate in spiaggia chiacchiera poi prende la tipa se la porta sul motorino anche lì poi è pazzo è legale è legale cosa? è legale su YouTube far vedere che vai a puttane la prostituzione ma non è che vai lì e scopi su YouTube cioè vabbè ovvio comunque cioè lo fai vedere easy penso ma poi è illegale andare a puttane in generale quasi andarci non la prostituzione perché diventa sfruttamento della prostituzione quindi è legale oddio lo so ma se mette una confusione assurda no infatti vabbè lui è tipo Klaus minchia quelli sono YouTuber che mi guardo Klaus me lo guardo e è un format poi difficile da digerire strano che mi piaccia perché lunghissimo ha pochi tagli parla un botto è sempre quasi sempre lui in faccia è lui che cammina così e il format è sempre lo stesso sto con questa tipa a Perù sì mi fa vedere la favela tipo ma poi è strapericoloso cazzo che dici e parla di cose hai ragione perché lui cioè comunque va in giro e dici tipo oh lì c'è un cane e ti parla del cazzo cioè non parla di un cazzo in realtà poi ci sono alcuni video in cui appunto va nelle favelas così e gli dicono non andare di là che lì tagliano la testa alle persone e lui ci va che lui è tipo sembra tedesco è sud africano però parla tedesco spagnolo inglese cioè un king quello cioè da un lato dico ci starebbe farlo però realisticamente mi scavallerebbero in tre minuti lui magari sarà tipo due minuti cioè non lo so però me lo immagino capito che magari un pochettino tipo intimidire tu potresti farlo boh sì dai vlog a Rozzano vlog a Rozzano con la con la Insta360 vado allo stadio Maradona con la maglia del Mila tipo mi infiltro nel Napoli così forza Roma minchia mi sceamale veramente comunque bro cioè la carriera del youtuber a prescindere dai video che fai mi sembra molto meglio dello streaming per esempio cioè meno stressante è tempo per lavorare da solo cioè stai lì ti pensi il video te lo fai è più chill sì è più chill non devi stare lì sette ore a parlare con un pubblico di merda anche perché la tua giornata di lavoro è l'esposizione al pubblico cioè non esiste che fai la giornata di lavoro senza stare davanti una videocamera invece magari fai lo youtuber ti prendi quei 4-5 giorni in cui dispensi il video e poi lo fai è stra chill è una figata l'unica è costanza e trovare la via giusta per replicarla più volte sì è vero e il budget per alcune cose e il budget per alcune cose sì all'inizio poi alla fine ti poi è un hack quella roba perché molti youtuber dicevano cioè spiegavano in tanti video quelli che viaggiano per esempio tutti quelli che fanno il video ho viaggiato in prima classe con Emirates ecco come è andata e magari spendono 5.000 euro di biglietto se lo rifanno col video poi dicono faccio questo video e con un video me ne sono fatti 5.000 e mi sono ripagato tutto quindi cioè ha una certa se carburi bro viaggi gratis cioè fai tutto gratis nel senso poi io io sta roba che mi piace l'idea mi piace perché non l'ho mai fatto però l'idea di stare lì editare un video tuo che hai fatto tu dall'inizio alla fine tagli la musica quelle robe di cazzo mi sembra figo sai ma adesso ti spiego cosa ho scoperto l'altro giorno c'è sto tipo in Italia youtuber Michele qualcosa che costruisce roba l'hai visto sicuramente sì qualcuno che costruisce l'italiano è come fa tipo faccio un bunker nel giardino di casa mia e fa i bunker sotterranei allora non l'ho visto fa le montagne russe nel giardino è proprio è un simpaticone che costruisce cose lui per esperimento ha fatto sto canale in spagnolo dove metteva i suoi video quelli già fatti però li faceva doppiare da uno spagnolo in spagnolo e sì quel canale adesso c'ha un milione di views a video sì sì pubblico spagnolo è figata già è come Mr Beast lui non fa niente lui manda il video al tipo paga il tipo che fa il doppiaggio e si prende il doppio dei guadagni in un altro paese minchia poi il paese è tipo di fiver gli da 3 euro lo schiavo spagnolo ogni giorno è diverso lo spagnolo lo accetto indiano la roba dell'audience è totale perché anche ho notato l'altro giorno guardavo Mr Beast che ha superato i 200 milioni di iscritti sul canale secondario ha tipo altri 3 canali hanno tutti almeno 30 milioni di iscritti bro ma che cazzo è questo minchia ha hackerato tutto sì il fatto delle lingue ti fa hackerare Mr Beast in spagnolo oh la esta è una Lamborghini oh la esta è una esplodere minchia le esplosioni esta è 600 mila euro e pesos minchia e spacca Mr Beast brother ha fatto i video sui ha costruito 100 botti d'acqua in Africa ah l'ho visto sai chi mi ha commosso quel video anche a me cioè dopo un po' lo guardavo e pensavo minchia non hanno l'acqua cioè i bambini si è sbattuto si è sbattuto cioè poteva non farlo è andato in Africa a farlo poi io capisco che questi qua lo fanno sempre cioè facendo l'avvocato del diavolo diciamo o leggi di internet dico lo fa per non pagare le tasse eccetera li monta e poi li smonta però fa vedere solo quando li monta ma in realtà i bambini l'Africa è un green screen sì sì in realtà gira in America su tutti gli attori no però cioè perché molti dicono l'ha fatto per cioè lo fa per non pagare le tasse quindi in realtà lui ci guadagna da fare queste cose però comunque l'ha fatto l'acqua ai bambini cioè quella roba cazzo poi lui lo dice che lo vuole fare cioè lui dice più soldi faccio più voglio fare pozzi e elettricità quanti soldi fa? ho letto mi sono andato a informare perché ero curioso ovviamente sono stati hai fatti conti in tasca a MrBeast sì 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 ovviamente sono numeri cioè non penso siano veri però dicono è che a quanto parla una sponsor di MrBeast va da 1 a 4 milioni costa circa cioè 4 milioni è stata quello dello Squid Game che era la più costosa di tutti però la media è intorno a un milione una roba del genere beh solitamente lui si fa le sue tipo la cioccolata anche sì 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 il panino sì 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 che c'è a Milano davvero? su Glovo tipo ma sarà falso non lo so io su Glovo ho visto MrBeast wow sì saranno tipo dentro una cantina questi che cucinano con le ventole suozze con i video di MrBeast su tutti su tutti i muri minchia no ma sarà fake io una volta ho visto tipo in and out su Glovo eh ci stanno ma sono scam secondo me sono sempre sì sti napoletani che intanto sono in live di TikTok trovano un metodo per prendere in mano il nome del brand dicono è tipo super in barletta lo fanno lo fanno riescono a farlo in ogni caso non capisco hanno un'abilità non riesco mai a è tipo l'hacking in vita reale sono degli hacker ma hanno delle scuole secondo me l'università della strada è così forte che l'università della strada li funziona comunque parca troia pensa a sta roba dei fake che hai tolto il cibo i vestiti questa qua pensa ti ricordi i video quanto questo è il tuo outfit ovviamente sì non so se tu ogni tanto li guardavi sì per curiosità io facevo un po' quasi hate watching cioè tipo lo guardavo per dire che video di merda è quello che lo fai quando erano a Napoli ti ricordi che c'erano vabbè Barengo e Vlad li facevano principalmente entrambi vabbè si vede esperti capivano quando era la roba era fake tipo no minchia di video a Napoli tipo quella maglietta sì questa maglietta supreme con la S figata girata e lo facevano tipo fake alert fake alert e nei commenti questo video è razzista vuoi dipingere Napoli come una città in cui non possono permettersi vestiti veri e io mi chiedo ma come cazzo vivono a Napoli che letteralmente cioè hanno sta reputazione poveri non se la tolgono più perché è impossibile togliersela oramai sta roba del del fake tipo cioè tu pensi a Napoli e pensi wow wow mille colori e basta cioè che cazzo pensi è vero o no dai cioè non è colpa dell'accento dici sì è l'accento che sta di scherzoso no sì di truffa però quella roba di supreme barletta guarda che era stata una cosa cioè poi li hanno sgamati non so cioè non ho idea di come sia finita ma li hanno fatto tipo un multo li hanno fatti chiudere ma guarda che come idea era assurdo me la spieghi praticamente vabbè supreme sì periodo giga hype di supreme e a una certa esce sto supreme italia e tu dici ma come cazzo è possibile e io ti giuro che vedevo tanta gente con la felpa e praticamente era uguale la felpa con scritto supreme ma invece che il logo essere grande così era tipo grande così quindi ho scritto supreme gigantesco sul petto io vedevo quindi era meglio era più supreme del vero supreme e io vedevo tanta tanta gente che lo metteva praticamente mi sono andato a informare quando è successo e ho scoperto che poteva funzionare questa cosa perché supreme era registrato nei paesi dove avevano i negozi era non so america giappone inghilterra più o meno e francia forse quindi in italia il marchio supreme non esisteva quindi questo è andato e ha detto supreme registro il marchio e addirittura all'inizio mi pare che la gabola fosse che cioè lui diceva se supreme vende gli denuncio perché è mio supreme e per tipo due anni sta roba ha funzionato e la gente comprava una cifra di questa roba e poi una certa supreme ha fatto tipo la mega denuncia gigante e hanno vinto e li hanno sgatti comunque ti immagini che tu stai come fai a avere la mente tipo stai sul dione e fai vabbè ho capito come fai i soldi faccio supreme scavallo supreme cioè come fai non ci arrivi io non ci arrivo una cosa del genere ci nasci è la strada è la strada capito ma infatti non è ci nasci cioè nasci nell'ambiente che ti fa diventare così no perché anche i nostri amici napoletani cioè io magari parlavo capito con amico x quando eravamo giù a Napoli e mi diceva fratello ma te sei troppo sei troppo tirato tipo cioè nel senso tipo che rispetti le regole no devi essere più furbo e diceva ma che cazzo vuol dire ma non è furbizia semplicemente io rispetto le regole mangio la vita ho la vita di mangia esatto e quindi dici cazzo se cresci qui alla fine lo sai anche te in giro a Napoli vedono che se in turista tentano di incularti tutti quindi per forza devi infurbirti se no figa cioè ti mettono tutti sotto hanno il dollaro negli occhi hanno il dollaro cacini perché troia è vero crescono così cioè cresci in sto posto in cui io inculio ti inculano di brutto io comunque cresciuto in quartiere periferia a Roma non è tanto differente io anche da ragazzino facevo soldi sì in modi io e Dario facevamo soldi in qualche modo tipo io a scuola c'avevo sta roba del compravo 10 panini 15 panini a un euro li portavo a scuola e li vendevo tipo a 3-4 euro sta roba è bellissimo non te l'ho mai detta te l'ho detta no forse sì però non me la ricordavo è geniale è incredibile perché poi venivano dove si sparge la voce sei l'unico che lo fa venivano in classe da me quelle altre classi ma ti rimasto uno col salame piccante sì certo 4 euro poi c'è un botto di soldi e invece con Dario Dario c'aveva sta roba assurda che non c'ha senso praticamente dato che per andare a vendere l'oro dovevi essere maggiorenne mostrare il documento e cazzi vari alcuni ragazzini del primo superiore così minorenni avevano l'oro delle comunioni che non potevano vendere perché non avevano il documento non volevano farsi sgammare dei genitori ma Dario che faceva? lo comprava e lo rivendeva tramite il nostro amico maggiorenne ah minchia Dario comprava l'oro quindi comprava l'oro un pochettino meno lo rivendeva speciale credo sia illegale come cosa però Dario è un Dario tanto si intirà e ci dirà un Dario sì in effetti tanti Dario Dario Morcia è assurda come cosa capito? è geniale e lui si rifaceva a parte mi faceva ridere mi mandava sempre le foto con queste capezze d'oro si metteva tutto al collo e mi mandava le foto e lo rivendeva a quei 100-200 euro in più anche quindi avevo cioè tu dici che anche voi a Roma avevate la mentalità sì oppure quando ero ancora più piccolo ho fatto partire la moda non so da cosa mi è nata però tipo un giorno stavo al mare ero piccolo ho avuto 12 anni 11 anni stavo al mare raccolgo le conchiglie e dico adesso queste le vendo mi sono messo davanti all'Eurospin al fianco al tipo che vendeva i giochi della PlayStation 2 masterizzati tu fratello con la mia bancarella con sopra le conchiglie le mamme che uscivano dall'Eurospin mi guardavano guardavano non c'è sto ragazzino che cosa sta facendo io ho 2 euro che compro una conchiglia l'ho vendito tutte e i ragazzini del quartiere l'hanno iniziato a fare le cose che c'avano in casa quindi c'erano 3 ragazzini fuori seduti troviamo una cassetta della frutta ci mettevamo sopra le robe e le vendevamo cazzo questo è figo sì si era sparsa la voce c'erano i vicini che invece mi facciano venire a casa per prendere le loro cose usate io ho una vicina mi facciano venire a casa sì ho questa bambola usata questa che voglio buttare e gli facevo questo questo e li vendo funzionava quindi ma c'era un po' tipo la guerra per la piazza allora quando tra bambini si è ad amenarvi per chi vendeva quando la ragazzina ha iniziato a vendere le conchiglie mi sono incazzato ok però non gli ha funzionato come ha funzionato a me perché era era un hype delle conchiglie clienti affezionati non puoi farlo di nuovo comunque sta roba del mercatino anch'io l'ho fatta in realtà da piccolo in montagna davanti a casa avevamo tipo un muretto cioè un parco e c'era il muretto un muretto di mattoni di montagna io mi sedevo sopra e in casa c'erano tipo i fumetti dei miei genitori così delle mie zie da piccoli tipo i Diabolic quelle robe lì degli anni 90 e io li prendevo e li vendevo tipo 2 euro l'uno ed era figo poi penso che alcuni clienti fossero amici di mia madre che diva che diva che diva mio figlio capito dacci un euro e poi glielo ridava però anche io in effetti sì c'è sta roba che comunque vedi un bimbo che vende cose e dici ma sì dai e tu invece però eri consapevole il bimbo malvagio che in realtà nel cervello ha una voce da adulto spicci arrivavano questi spicci che poi tra l'altro tutto funzionava per il tipo che vendeva i giochi della Playstation 2 a fianco perché poi li spendevo là ah ok quindi c'era un effettivo mercato sì sì a lui non dava fastidio perché tanto i soldi finivano da lui e quindi c'era un ecosistema criminale no criminale in realtà c'era un giro di economia assurdo non criminale davanti l'eurospin era un mercato nero era un po' un mercato vabbè poi la roba delle capezze rivendute quello mio ah perché all'epoca l'oro costavano tantissimo cioè se lo rivendevi facevi i soldi beh ma anche adesso le collanine che pesano un grammo oggi costa di più cioè tipo oggi credo che sia 40 di più forse 47 prima era 25 una roba del genere così poco sì dovevamo comprare un botto da piccoli però c'era più 10.000 euro non so se adesso c'è ancora la mentalità di regalo all'oro tipo alle comunioni ma sai che secondo me nel sud Italia c'è tanto cioè a Roma c'era tantissimo non so se è pure in giro perché c'è tutti i ragazzi io no vieni che capiti nelle periferie ti indebiti per la collanina d'oro per la comunione tipo io ce l'avevo però mi madre l'ha l'ha impegnata come funziona il banco dei pegni? eh tu vai là ti danno una caparra che poi che ti ti prendi i soldi e poi riprenderla quando vuoi però se scade un tot di tempo se la tengono ah quindi tu mi porti la catena io ti do 200 euro e tu te la puoi ricomprare 200 euro quando vuoi sì una roba del genere quindi è un prest cioè una sorta di prest sì però se tipo non te la ricompri entro un anno è mia ok ovviamente loro tirano pochi soldi rispetto cazzo un bel business il banco dei pugni dei pugni mio figlio poteva morire solo quello so esatto pensa pensa cioè io mi immagino sempre io penso quindi ho pensato che crescere a Roma cioè noi abbiamo avuto due infanzie però troppo diverse tu ci pensi mai a sta roba cioè che io a Como che è tipo Svizzera cioè un po' quasi la Svizzera e tu o Dario così a Roma nelle Borgate è troppo diverso sai che io non riesco ad immaginarmi un'infanzia diversa dalla mia e cioè è difficile per me tipo pensarla diversamente ok scusa io cioè io ci provo sai cosa è che magari l'infanzia tipo nelle nelle Borgate in periferia cioè nei film così c'è è pieno invece l'infanzia a Como chi cazzo l'ha mai fatto dire cazzo facevate tipo niente cioè salutavate le capre che cazzo ne so no però prendi vai a scuola torni esci giochi cioè nel senso forse non è così diversa l'infanzia non lo so anch'io facevo il mercatino in effetti è la stessa cosa però non c'era la droga però invece che l'euro spin era tipo la montagna non c'era lo spaccio della criminalità però è la stessa cosa è vero io abbiamo trovato un punto in comune tra Como Roma Napoli la mia infanzia è tipo sai che io ho avuto un'infanzia di merda a livello sociale perché tipo quando ero ragazzino ero un po' strambo no? e quindi non ero tanto accettato nel gruppo tranne che con gli strambi quindi i discord boys praticamente quindi i miei primi periodi in in borgata perché ho cambiato tipo tre quartieri diversi e l'ultimo in cui sta mia madre adesso ce l'avevo tipo quando ho sei anni e quando sono arrivato non sono stato accettato quindi sono stato tipo fino ai dieci undici dodici anni che quando scendevo mi prendevano in giro e io mi annoiavo stavo a casa per questo con iniziare a giocare i videogiochi bless ai bulli brother perché oggi ma infatti bless cioè ci hanno svoltato la vita mi hanno blessato i bulli beh boh io non ero proprio perché appunto ovvio che esiste il bullismo anche a Como logicamente però me lo immagino molto più aggressivo in una borgata romana probabilmente quindi cioè non sono stato capito preso di mira troppo però comunque quel tanto che basta da dire ma d'affanculo sto in casa non mi rompete il cazzo mi coltivo le mie passioni da solo e cresco me stesso ma perché forse l'avevamo già detto l'altra volta infatti vabbè senza ripeterlo del tutto però quella roba lì che è il più popolare poi è diventato tipo in realtà quello che ha avuto ma il bullo rimane bullo? secondo me il bullo si pente a una certa dice oddio che cosa ho fatto quando ero piccolo secondo me quando maturi lo capisci che hai fatto delle stronzate da piccolo ma secondo me lo accettano e basta si ero ragazzino si quelle cose che si facevano da ragazzi forse è vero tipo bruciare lo zaino del tuo compagno bruciare le dita bucare gli occhi al più piccolo della classe a coltellare col compasso e no sta roba dei videogiochi cioè tolta vabbè la parte tipo amicizia sai che tra i quarti dei miei amici li ho conosciuti io e te appunto cioè ci siamo conosciuti online nessuno sa che ci siamo conosciuti su league of legends ci siamo conosciuti su league of legends poi tu tu sei il motivo per cui io sto a milano tu sei il motivo della mia vita oggi perché ti ho fatto conoscere Omi si io conoscevo già Omi si io ah ok adesso sto a costruire sei molto importante la mia vita broda tu praticamente ti ho conosciuto siamo legati tramite Accia tramite Accia che salutiamo la nostra amica Cristina giochiamo a league of legends Accia di Roma quindi l'ho conosciuta a Roma e ho conosciuto te tu mettevi in chiamata Omi con cui giocavamo ho conosciuto Omi giocando Omi di Roma l'ho beccato tu trasferito a Milano Omi trasferito a Milano io trasferisco a Milano perché voi stavate a Milano è vero sì e quindi è per questo che io ho questa vita qua ma in effetti abbiamo una vita legata da cose casualissime sì che è molto figo è un po' tipo sliding door l'effetto farfalla il butterfly effect se quel giorno Accia non ti metteva in chiamata io stavo a Roma a vendere le conchiglie davanti all'MSP che poi io ho conosciuto Accia perché un mio amico romano che avevo conosciuto online tramite qualcun altro sì l'altro Dario usciva con Accia e quindi mi fa sto giocando League of Legends con amica mia allora sono venuto è successa tutta questa roba e poi una doppia roba per dire Matteo Dario poi ho conosciuto Mattia e adesso a marzo andiamo a Tokyo è assurdo in effetti non ci avevo pensato da questo punto di vista a fine League of Legends vedi che c'è ha dato ha tolto tanto ma ha dato dai toglie sì cazzo è troppo una roba da film dovremmo farci un vlog di YouTube sopra dovremmo farci il vlog bro già abbiamo è questo è vero bro è finito cazzo è giù pensavo sai chi sto guardando mi è venuto in mente questo flash che che però un po' lo odio è come tutti i video che guardi a quanto pare no no non è vero hate watching dalla mattina a sera no io amo Surry e lui ama noi io amo Surry sono un fan di Surry e no Cicalone ti stai guardando Cicalone? l'ultima settimana mi sono visto due o tre video di Cicalone e da un lato dico non so mi diverto cioè comunque vedo questi che litigano cioè mi può divertire io sono un po' combattuto con Cicalone perché tipo lo guardo e dico cazzo rispetto poi una certa faccio aspetta ma sta scena è un po' fascista esatto e dico ma è una roba fascistoide cioè va nei parchi dove ci sono i poveretti che dormono è proprio l'impostazione però cioè comunque dieci bianchi vestiti con le t-shirt bro praticamente con cose fasciste insorgi contro il fatalismo bro cioè tipo camminano così si guardano intorno e vanno a parlare non filmare oh i video dove c'è quello col coltello e sotto Mattia Farone fa fammelo stila questo dai fammelo buttare per terra cioè bro sono un po' fascista però è epico perché ci sta fare una roba del genere ma l'impostazione è un po' fascista che non è propriamente fascista però ricorda un po' quello sai cosa soprattutto che lui forse non è fascista no no cioè a lui do il beneficio del dubbio ma poi io l'ho conosciuto ci ho parlato sembra la persona più lontana nel fascismo capito lui secondo me lo fa lo fa in coscienza ma quelli che si porta dietro quelli sono fascisti fratello ma quelli sono mega fascisti quelli che si portano dietro sono fascisti cento per cento cioè ho visto l'altro giorno il video con la Firenze con i tipi con due o tre del calcio storico mega fascisti qui tatuati sì 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 uno minchia due metri una bestia tutto tatuato sulle braccia gigantesco un altro del calcio storico arriva questo qua litigano e lui fa tipo ma perché sei qua ubriaco e lui fa non c'è lavoro non c'è lavoro venite qui giudicate non c'è lavoro io devo dormire sulle cazzo di panchine e lui gli fa e t'ho fatto venire io al paese mio vabbè zio ma che cazzo comunque comunque non esistono fascisti che non parlano romano bro questo era un accento toscano io non me lo immagino il toscano che fa se stava meglio quando se stava peggio no questo ha fatto il marchigiano ho sbagliato hai fatto Diego lo ce li vedo i marchigiani fascisti i fingere vingeremo come era bello il vendennio porca travaglia quando c'era lui cioè beh suona benissimo quando invece senti il tipo di Firenze che parla toscano non è proprio lo stacco dal fascismo anche perché sono tutti i tipi comunisti di solito un botto comunisti Roma i peggiori cioè io ci ho fatto proprio caso e devo fare devo chiedere ammenda cioè devo fare ammenda perché faccio parte di questa cosa ovvero l'accento milanese comasco è simile alla fine più o meno è proprio brutto cioè quando lo sento parlato fammelo vabbè il meme del milanese tipo e allora capito e raga andem gal sub gal sub e testina cosa vuoi capito io però ho un compagno di classe al liceo che sembra Berlusconi te lo giuro e non è rara come cosa a Milano non lo sento è raro che sento il milanese a Milano perché meme di Milano non ci sono i milanesi anche dai vecchi nei bar gente adulta non lo sento non senti mai fuori a Debal pochissime volte cioè tipo è venuto un fabbro l'altro giorno a casa nostra che era proprio bausha milanese venuto e parlava così e poi si è fatto pagare il nero è da bravo bausha però dal resto 150 euro ci ha cambiato la serratura non ci ha chiesto 400 euro come solitamente cioè sta roba qua paragonando gli accenti che tu dici magari l'accento napoletano è iconico cioè è mega iconico quello romano pure poi quello napoletano è tipo come dice Anas comicità infinita cioè ue ue fai così la gente ride quello romano secondo me da uno appunto lombardo è visto un po' come quello che fa brutto tipo ci spaventa forse voglio dire quello toscano vabbè è il meme supremo ovviamente insomma il lombardo è una merda forse peggio c'è solo il veneto capito no quello lascialo perde è nella top 1 top 1 che non ha il supporto ma io sono tu parli con una persona che io sono un hater un hater degli accenti però in generale sì non riesco a sopportare chi ha un accento troppo forte mi dà fastidio ma tu su di me per esempio lo senti tanto no tu parli un buon italiano beh sono contento di questo io tu vabbè tu hai si sente la calata però su alcune consonanti parlo italiano sì 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 ci sta a te tipo non esce a Roma anzi mia madre ogni tanto mi dice ma parlimi come da milanese mi convinco di questa cosa perché io non mi sento l'accento romano poi Giulia mi dice guarda che tu dovresti ascoltarti perché parli proprio molto romano non me lo sento e a Roma alcuni dicono ma di dove sei? di Roma i romani forse hanno un problema con gli accenti il motivo per la quale io li odio li odio tantissimo ultimamente più del solito lo sai cosa odio? l'accento romagnolo mamma mia that's allora non so la differenza tra emiliano e romagnolo però quello sì dell'Emilia Romagna in generale che fanno tipo la z e la c la pronuncia si è strano è strano poi non sta sta roba che sembra che ti pino per il culo sempre questo non lo sai noti solo duro eh boh forse perché c'ho il bias però ho trovato ti conosciamo come sta il romagnolo e tu fai che cazzo stupido no ho trovato sto tiktoker che cazzo non mi ricordo il nome mica bro l'odio troppo è uno che praticamente non fa altro che lamentarsi di Milano perché vive a Milano è venuto a vivere Milano e si lamenta di Milano e mi esce ovunque funziona ovviamente di brutto perché nei commenti in altri che gli danno solo della gran corda chiacchiera bro eh mica mi dà un fastidio che non puoi capire mi sono preso male perché ho controllato la cam e vedo che c'era qualcosa che non andava e quello che non andava è il fatto che non c'ero io nella sedia cazzo non ci sono io che abbiamo sbagliato a fare qualcosa non c'è cazzo porco dio che sottonata c'è boh c'è sono Lorenzo cazzo non mi abbiamo ripreso comunque dicevo che sto infame di merda l'odio bro minchia allora la roba che dice lui è tipo come si fa a vivere a Milano con 1300 euro al mese che devo spendere 850 euro al mese d'affitto e già ti dico ma che cazzo dici ma dove cazzo vivi 850 euro tutto in accento romagnolo tutto con questo accento terribile e dico ma se tu arrivi da Forlì o da dove cazzo vieni vieni a Milano e vai a spendere 850 euro al mese d'affitto già ti sei fatto tirare in mezzo cioè ti sei fatto inculare due sei pezzi di merda che gentrificano Milano come dei pazzi che figa via Padova in fondo questa 7000 euro al mese un monolocale perché sti coglioni si vanno inculare da questi e ti lamenti ma che cazzo ti lamenti vincia è assurdo ti giuro non mi fai girare i coglioni tasto non mi interessa e non ti escio più però mi interessa io non mi sono mai fatto inculare con gli affitti a Milano io accetto la nostra casa era una bomba pagavamo giusto noi pagavamo 470 assurdo 470 a testa c'è un quadrilocale grosso grosso ci stavano giganti una cucina grossa un bagno gigante minchia infatti abbiamo fatto un errore che bomba di casa a livello economico abbiamo fatto l'errore peggiore posizione assurda chiedissimo anche adesso non pago tanto non mi sono mai fatto un culo ho trovato sempre delle buone opportunità beh perché poi la legge della strada la ti insegna l'università ti insegna ma io io spendo un po' d'affitto ma perché sono in una bella zona e ho detto posso cioè va bene sti cazzi spendo 200 euro in più al mese non fai i tiktok dove te lamenti ma non mi lamento cioè se vado a spendere lì non è che sono capito non lo sapevo cioè ho firmato mi hanno fatto fino al ricontratto mentre dormivo che cazzo è minchia poi ho tutti i commenti hai ragione anch'io mi sono trasferita 4 anni fa è invivibile e poi ci sono gli altri che scrivono ma vai via allora no ah ti pare che io dopo 4 anni che bevo qua mi sono fatto gli affetti le amicizie a Milano me ne vado via guardate non ti lamentano cioè ma che cazzo vuol dire senti su discord minchia davvero io tra l'altro ci ho pensato io le uniche amicizie che ho che mi tengo è che sto proprio sicuro tranquillo è su discord è tipo un luogo dove sai è bellissimo e qualcuno non ti va lo muti tipo se io non voglio rispondere o mi da fastidio la voce di una persona l'abbasso voglio raga raga ciao ci sentiamo fra mezz'ora nessuno si lamenta non è che mi ha alzo al tavolo e me ne vado nella vita reale capito è bellissimo sarebbe strano nella vita reale puoi parlarci sempre torno tra mezz'ora si bro guarda un'oretta ciao e metto in silenzio così sul divano a guardare un video se lo strano se lo fai invece là fa quello che vuoi bellissimo discord è una safe zone tipo dove hai poi capito hai le stanze private hai un bot di comitive io ho due server che giro il nostro e quello di Dario Moccia dove ci stanno i ragazzi che giocano con il gioco di brutto fino a tardi anche quindi ho le comitive scelgo sto un po' lì un po' qui è come sta in piazza però con il pro di poter mutare la gente poi ogni tanto magari capito stai guardando un video dici e cosa mi muto un secondo io proprio cioè così silenziato dopo dieci minuti torni fai tipo e tutti fanno e nessuno dice un cazzo bellissimo e io per questa roba sparisci per due mesi ritorni su discord è come se non fosse mai passato un giorno magari qualcuno dice dove sei finito tu dici i cazzi miei ok è per questo che noi siamo ancora amici bro forse sì siamo ancora amici e continueremo ad essere amici proprio volendoci bene perché ci vogliamo bene nell'internet perché il posto l'unico posto dove si sopporta veramente l'essere umano e dove se non lo vuoi sopportare la mandi a fare in culo con tutti i vantaggi della tecnologia bellissimo bro io tra l'altro per sta roba tante volte ho pensato di trasferirmi su discord su discord da milano una vasca applodo la mia coscienza sul serio nella sunbar Lorenzo come stai? bene male due parole e tipo sì una scoreggia un rutto qualcosa del genere grazie grazie